Buongiorno Marco, in apertura il vertice per la sicurezza. Ieri in prefettura a Milano con la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e anche il Ministro dell'Interno, Piantedosi, si è tornati sul caso Cospito. Meloni ha ribadito che lo Stato non ceda le minacce. Allora vediamo con Lorenzo Galeazzi. È la sicurezza il tema principale della visita in prefettura della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ad accoglierla a Milano il Sindaco Giuseppe Sala, il prefetto Renato Saccone, i vertici locali delle forze dell'ordine. Con lei il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Un meeting spiega la Premier nell'ambito delle visite che il Governo sta facendo nelle città metropolitane, come già avvenuto a Roma e Napoli. Sul caso Cospito, l'anarchico recluso al 41b sa opere sulla scia di violenze e manifestazioni a sostegno della sua lotta, Meloni ribadisce, lo Stato non scende a patti con chi lo minaccia. Vale per la mafia ieri e vale per gli anarchici oggi. Se gli anarchici pensano che facendo saltare le auto di qualcuno lo Stato indietreggerà. La visita all'indomani delle parole di Sala sulle difficoltà di bilancio a fronte delle scelte dell'esecutivo in manovra. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo, replica Meloni, che aggiunge al Sindaco detto che farò del mio meglio.